Benvenuti, cari follower! Se si preparano ad una tempesta di neve molto forte, nei prossimi giorni si abbatterà sull'Italia, con ingenti quantità di neve che cadranno in pianura e a quote molto basse. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarsi, premendo il pulsante Mi piace per questo video per motivarsi a continuare e offrirti il Meglio. Quindi, il modello europeo, nel suo ultimo agghiornamento indica, l'ingresso di aria molto fredda nella regione del bacino occidentale del Mediterraneo, che dovrebbe colpire fortemente l'Italia a partire dal 7 e 8 marzo 2024. Il modello europeo prevede neve cadere in pianura e a quote molto basse in grandi quantità che vanno dai 40 fino ai 100 centimetri di tasso di accumulo, con un'alta probabilità di formare tempeste di neve molto forti. E il modello europeo prevede che queste tempeste di neve saranno più potenti nelle regioni centrali dell'Italia, che faranno la parte del leone in termini di neve. Possibilità di nevicate anche in zone separate da nord a sud e anche in zone separate della Sardegna, ma la neve sarà più forte nelle regioni centrali dell'Italia, come ho detto. Cercheremo di fornirvi maggiori dettagli riguardo questa fortissima tempesta di neve più avanti e quando il periodo si avvicinerà.